Buonasera, benvenuti, ben ritrovati nella nostra tribuna politica. Il nostro contenitore settimanale di approfondimento sui temi della politica regionale e provinciale e non solo. Siamo alla vigilia dell'appuntamento delle elezioni regionali, per cui abbiamo stasera il piacere di ospitare con noi tre coordinatori di partito che in qualche modo stanno lavorando per testere, costruire sostegni, alleanze, candidature e quant'altro. Do quindi il benvenuto a Enrico Di Giuseppe Antonio, segretario regionale dell'Udc. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Do il benvenuto a Paolo Tancredi, coordinatore regionale di Noi Moderati. Do il benvenuto a Camillo D'Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva. Buonasera. Bene, come dicevo appunto ai nostri telespettatori, siamo alla vigilia dell'appuntamento delle regionali. Intanto domando a tutti e tre, siete anche candidati oltre che coordinatori di Giuseppe Antonio? Io no e non ho più possibilità di ripensarsi perché facendo il sindaco avrei dovuto dimettermi venerdì, giovedì. Credi, guardiamo il sindaco di Possa Celsia. Quindi non posso candidare, quindi sono escluso. Ok. Tancredi? No, io non sono candidato, non ho nessuna intenzione di candidarmi, però sto cercando di dare una mano per strutturare e costruire questa lista. E D'Alessandro? In cammino. In cammino? In cammino. Vedremo nelle prossime settimane. Quindi sta valutando, insomma, non esclude una candidatura. Bene, per tornare a lei, Giuseppe Antonio, io volevo intanto capire, bene, non siete candidati, D'Alessandro lo sta valutando, ma per quale tipo di schieramento comunque state lavorando al sostegno di Martiglio? Perché, insomma, adesso, aiutateci un po' a chiarire, no? Perché adesso ci sono anche tanti partiti, no, immagino azione, le componenti civiche. Ecco, lei che viene da una tradizione moderata come l'Udc, non si trova un po', come dire, spaisato in questa coabitazione con questa... Beh, è una continuità di un'esperienza politica in Abruzzo come nel Paese. L'Udc nel Paese, presentandosi con noi moderate e altre formazioni di centro, hanno deciso di sostenere, ovviamente, la coalizione di centrodestra e quindi il governo in carica, il governo guidato dalla Meloni. In Abruzzo, un po' abbiamo avuto qualche problema di organizzazione del gruppo consigliare alla Regione, ma ci presentammo, nelle elezioni di cinque anni fa, con Marsilio. E mi pare che, ovviamente, la decisione di ricandidare Marsilio sia stata affrontata e decisa, anche a livello regionale, per cui siamo nella coalizione di centrodestra. Ovviamente, questa volta, contribuendo con degli aspetti programmatici che non possono essere accantonati, ma che devono rappresentare anche un ulteriore passo in avanti della nostra Regione, con tutte le difficoltà che le regioni italiane, ma con tutte le difficoltà che sono un po' comune al Paese. Senta, ma lei come si trova con Giulianze? Questa fusione a freddo con Giulianze, come la sta vivendo? Insomma, che ha un percorso smaccatamente di centrodestra. Allora, che devo dire? Io, obiettivamente, dico che, affondando le radici nel cristianesimo, nel cattolicesimo, il Vangelo dice spalancate le porte. Le porte devono essere spalancate. Bisogna cercare di convivere in una organizzazione di partito. Lo dico io, che in fondo nasco nella democrazia cristiana e sono ancora con lo scudo crociato. Quindi un po' mantengo la coerenza della scelta. Avevo 14 anni e quindi sono passati secoli. Però, vabbè, insomma, bisogna cercare di condividere tutto. Adesso vediamo un attimo di formare un centro. Adesso ci vuole un laboratorio. Adesso c'è pure, ovviamente, chi si chiamerà centro nelle elezioni europee. Adesso, a parte, diciamo, il passaggio regionale. Noi dobbiamo ricreare il centro, che deve essere un laboratorio che parta dalle realtà territoriali, ma che crei davvero quello che, in fondo, ha rappresentato per il nostro Paese in questa regione. No, la moderazione, ma anche la capacità di mediare le varie opinioni, le varie posizioni, i vari punti programmatici e fare in modo che un Paese, che una Regione, che un Comune, crescano senza difficoltà. Giulianti contribuirà ad elaborare un progetto centrista. Bene, io chiedo un attimo il contributo della regia, diciamo, a Pietro Baldastarre, per mostrare, appunto, diciamo, un articolo che fa seguito, appunto, un comunicato che è diffuso lei, Tancredi, proprio nei giorni scorsi, dove, ecco, appunto, lei faceva appello, in qualche modo, alle porte centriste, insomma, a costruire una lista insieme. Ci può, insomma, spiegare un attimo in che cosa ha consistito questo suo appello pubblico? Ma è molto semplice. Io penso che... Io devo dire, quando vi ho invitato ancora non sapevo di questa interlocuzione, è onor del vero. È vero, è vero. Io penso che tutto quello che ha detto Enrico Giuseppe Antone lo sottoscrivo. Penso che tutto questo, per portare avanti i programmi nella tradizione politica di cui ha parlato Enrico, che per me significa impegno nel cattolicesimo liberale, nella moderazione, ma anche nella determinazione, una politica che poi abbia il primato e che, fatte le dovute mediazioni, decida. E questo è l'esempio, insomma, di alcuni partiti che io ritengo gloriosi della Prima Repubblica, quelli, la democrazia cristiana in primis, ma il pentapartito in generale. Quindi su questo mi ritrovo nella tradizione di cui parlava prima Enrico. Credo che però poi ci sia un ragionamento da fare di marketing e opportunità politica. Cioè questo centro di cui tanto si parla... Io sono uno poco convinto anche del bipolarismo. Il bipolarismo in Italia è una cosa che non ha nessuna storia, che è arrivata con Berlusconi sostanzialmente, che in un momento in cui c'era una disgregazione, una polverizzazione dell'offerta politica, ha messo insieme una coalizione che ha chiamato di centrodestra, ma centrodestra non è mai esistito nel nostro Paese. Io credo che lo spazio per un partito che si rifaccia poi al conservatorismo europeo, alla moderazione e alla tradizione politica italiana ci sia, però queste forze si devono organizzare in un'offerta politica che sia una compatta, riconoscibile, che abbia una certa massa critica. Perché altrimenti la polverizzazione di queste forze fa sì che poi, tutto sommato, continuiamo a parlare, ma non riusciamo mai ad avere risultati e seggi che possano essere paragonabili a quelli invece dei partiti di tradizione più estremista, populista, insomma io non è che voglio, sono termini che uso per semplificare, ma non c'è nessuna accessione negativa in quello che dico. Quindi io ho fatto un appello a tutte queste persone che si ritrovano in questi concetti ad unirci, tra l'altro, sotto la sigla che ha unito queste forze alle politiche di settembre del 2022, che andrà alle elezioni suppletive in questi giorni del seggio di Monza e che, insomma, è uno sforzo che si sta facendo che credo che vada perseguito. Se poi ho anche detto, capisco gli amici dell'Udc che hanno, diciamo, anche un attaccamento e un rispetto del simbolo sotto cui sono stati per tanti anni, anche questo secondo me è possibile, cioè non vedo nessun ostacolo a poter comprendere anche il loro simbolo. Sì, un po' come è successo anche per il centrosinistra, dove Azione comunque ha tenuto a, come dire, inserire un trattino nell'appoggio della coalizione, della coalizione. Sì, qui stiamo parlando di una lista, non di una coalizione. Quindi però, anche se dobbiamo mettere, però il concetto è quello di creare un gruppo forte che abbia, che si richiami alle stesse tradizioni e che ambisca stare in regione in una maggioranza di centrodestra avendo un peso, avendo un peso politico e potendo contare e potendo quindi portare avanti tutte queste istanze. Bene, D'Alessandro, diciamo lei peraltro è fresco, diciamo, di rinnova degli organi politici perché avete fatto da poco il congresso dove lei è appunto stato riconfermato in qualche modo presente. Intanto le voglio chiedere la fedeltà Renzi, la premiata, in termini professionali. Lei usa un concetto di questi tempi, la fedeltà, la fedeltà è... La lealtà. Ecco, esatto. La lealtà invece non prevede un premio, prevede una coerenza di percorsi. Io credo che Renzi sia uno dei più bravi in Italia dal punto di vista politico. Il fatto che non incroci in un pezzo di tempo della storia un consenso elevato, questo non significa che non rimane uno dei pochi politici in Italia a capire e a prefigurare dove può andare un paese, dove va l'Europa, dove va il mondo e credo che ci sarà il tempo in cui questa politica che si riassetta mano a mano dalla ubriacatura populista e demagogica possa tornare e per noi l'appuntamento molto importante saranno in Abruzzo chiaramente le regionali ma in generale a livello nazionale le europee dove riusciremo appunto con la formazione a cui stiamo lavorando, che si chiamerà Il Centro, insieme anche ad altri che accompagneranno questo percorso per fare in modo che in Europa si eviti il pericolo che gli amici della Meloni, che stanno un po' perdendo da tutte le parti, Spagna e recentemente in Polonia, possano non essere maggioranza in Europa e che si ricrei un equilibrio in Europa tra le forze socialiste, popolari e liberali per garantire la tenuta dell'Europa rispetto a rischi enormi che l'Europa sta correndo, soprattutto dentro le tensioni europee e internazionali. Potremo fare la differenza in Europa per un nuovo governo europeo equilibrato che mantenga ferma l'Europa. Questo è il progetto che stiamo portando avanti. In Abruzzo voi appoggerete la coalizione di centrosinistra? In Abruzzo noi appoggeremo la coalizione del senso e del buonsenso, che il buonsenso è essere alternativi alla coalizione di Marsilio, per tutto ciò che cercheremo di dire e di raccontare in questi minuti, ma soprattutto in campagna elettorale. Qui non si tratta di centrodestra e centrosinistra, anzi, io credo che la coalizione che mette insieme, una coalizione larga che mette insieme delle forze, anche diverse a livello nazionale, ma che convergono su un progetto regionale, regionalista, con a capo non solo chi è stato capace di fare la sintesi, ma chi sarà capace di governare l'Abruzzo perché lo conosce e perché lo studia da sempre, cioè Luciano D'Amico. Io penso che abbiamo, con la nostra presenza, consentito di costruire una vera alternativa. A presente quella pubblicità, mi piace vince per facile, dove entrava una squadra solo in campo e l'altra, non c'era nessuna. Ecco, adesso le cose stanno cambiando e stanno cambiando anche nel fronte moderato, visto che abbiamo parlato. Noi daremo vita ad una lista dei riformisti abruzzesi di centro, insieme ai socialisti, insieme a Più Europa, insieme ad altri pezzi civici che vogliono condividere e risolvere il problema, come dire, di una casa da dare a coloro i quali, anche dando molta fiducia al centrodestra in questi anni, e anche avendo dato molta fiducia a Marsiglio, si sono trovati per cinque anni fuori dalla regione. L'Udc è stata cacciata durante le elezioni regionali cinque anni fa. Tancredi, non ricordo, cinque anni fa, a sostenere insieme a me Giovanni Legnini. Cioè, io credo che dovremmo cercare di consentire che all'interno della coalizione delle forze che sostengono Luciano D'Amico ci sia la casa di centro riformista. È quello che stiamo cercando di fare. Senti, con Azione i rapporti come sono? Cioè, nel senso comunque abbiamo visto Azione che è stata, insomma, ha avuto qualche indugio. Voi comunque avete avuto anche una fusione a freddo con Azione, inizialmente. Adesso sembrate un pochino più distaccati. Ecco, viene capito questo? Aiuta? Secondo me non viene capito, non viene compreso, non lo capisco neanche io, figuriamoci i cittadini che pure ci hanno dato un buon consenso a livello italiano, superando insomma l'8%. Noi ci troviamo di fronte ad un fatto nazionale che però ho lavorato e abbiamo lavorato affinché non avesse ripercussioni sulle dinamiche regionali, proprio perché è una coalizione regionale e regionalista dove ci mettiamo insieme per fare delle cose per l'Abruzzo, non per gli equilibri, ci mettiamo insieme non per ciò che serve ai partiti, ma per ciò che serve all'Abruzzo. Nel caso di Azione, Azione presenterà, come annunciato, una propria lista dentro questa coalizione, lo farà in modo autonomo, quindi immagino con una lista di partito. Noi faremo una lista invece, lo abbiamo già detto, insieme a Più Europa, Socialisti e a pezzi moderati e anche a qualche altro movimento che sta nascendo e che ci ha contattato, che però si riconoscono tutti dentro quest'area centrale e centrista, io aggiungo, riformista della nostra regione, anche perché la nostra regione ha bisogno profondamente di riforme. Di Giuseppe Antonio, appunto, il collega di Alessandro parlava appunto anche lui di appunto di grande centro, però ormai questo centro insomma ve lo litigate un po' a destra e sinistra, ma alla fine non rischia di appunto di smembrarsi a quello che doveva essere appunto un contenitore moderato alternativo al bipolarismo, però diventa di fatto insomma una polveriera. Cioè, lei come legge questa? No, Paolo ha fatto un riferimento intelligente. Se noi adesso ci fermiamo al bipolarismo in questo paese, il centro non rinasce perché è così spezzettato. Tanti sgabbelli occupati da tanti leader. Ma lei ad esempio come segretario di partito come fa a, come dire, a rendere riconoscibile la vostra proposta politica ad esempio da un partito come azione? Semplicemente per, non lo so, magari una azione magari forse un po' più laico, voi siete più... Cioè, è solo questo o c'è altro? Secondo me un po' siamo usciti da un'organizzazione della politica diversa dal passato, è un po' più lideristica una parte della politica. Ma qua tutti i movimenti e i partiti politici hanno il leader che riescono un po' ad aggregare consensi. In fondo i social hanno un po' modificato, cambiato anche la parte giornalistica dell'informazione. Io però dicevo, a proposito di centro, io credo che debba essere fatta una riforma della legge elettorale. In questo caso ovviamente noi siamo in un sistema proporzionale, no? C'è il candidato presidente, la sua coalizione, tipo i comuni, no? In comuni c'è il sindaco e la sua coalizione. Ma in prospettiva politica bisogna ricreare le stesse condizioni che hanno formato un partito dai popolari alla democrazia cristiana che ha governato, cambiato, modificato, reso un paese più democratico ma anche più concreto. Perché la politica adesso fugge da considerazioni che riguardano un programma, che cosa voglio fare? Io farò il sindaco, farò il presidente della regione, farò il governo del paese, devo modificare, riformare, cercare di migliorare, cercare di cambiare, cercare di mantenere. Tutto questo non avviene. Allora qual è il problema di fondo? Che noi dobbiamo capire che è un sistema diverso, un po' nel resto dell'Europa, che porta il centro ad essere un'occasione di aggregazione e anche di, come dire, di modifica anche di una propria opinione perché si confronta con gli altri. Nella DC esistevano le correnti, a certo punto in vise, dall'altro canto con i difetti, qualche volta con un pregio. Però non era un partito lideristico, era un partito dove convivevano più posizioni che poi in un congresso, in un'assemblea, si sintetizzavano e portavano questo paese ad essere governato. Oggi non è più così. A parte della politica si fa una fatica a capire come possa essere governata da chi magari anche nel suo percorso non ha avuto nessuna esperienza. E questo poi succede negli ambiti legislativi, perché il Parlamento e il Consiglio regionale fanno le leggi e le leggi le devi fare in maniera tale che questo sia un paese, come dice lui, riformista, un paese che cambi. Però ripeto, oggi il sistema elettorale è lo stesso un po' dei sindaci sotto 15 inabitanti. C'è il candidato presidente con la sua coalizione, vince il candidato presidente, vincono le liste e si ripartisce la quota di maggioranza. Per quanto riguarda la storia dell'UDC di 5 anni fa, vabbè, io stenderei un velo non pietoso, stenderei un velo, perché quando, e lo dico io che potrei dire, io sono il migliore del mondo, perché non ho mai cambiato partito. Quando c'è una modifica degli assetti, dell'organizzazione, c'è una persona che decide di andare, non ci sono più gli spazi ideologici, no, prima comunisti, democristiani, socialisti. Adesso c'è lo spazio programmatico. A me piace quel movimento politico, perché rispecchia le mie idee. È successo quello che è successo, ma poi le abbiamo modificate. Da adesso poi non eravamo più un rappresentante nel Consiglio regionale e un po' di emarginazione anche di rappresentanza l'abbiamo avuto. Ma vedremo adesso con le elezioni di marzo prossimo. Tancredi, ecco, diciamo appunto, come vi distinguete? Cioè, nel senso, lei ad esempio, prima il collega di Giuseppe Antonio ha fatto il richiamo, no, insomma, al vecchio partito, no, alla struttura in qualche modo rassicurante del partito. Voi sì, siete ancora in un partito, ma adesso hanno connotati diversi. Cioè, come avete voglia di fare ancora i segretari, i coordinatori di partito, diciamo, in questa situazione così fluida? No, per carità, la voglia, la politica è una cosa bella che si fa con passione, al di là dei ruoli che si occupano, quindi è un mestiere bellissimo che ti arricchisce ogni giorno, è un mestiere, è una passione. Ma vale ancora la pena, diciamo, con questo, diciamo, sottodimensionamento, appunto, diciamo, di quelli che erano i vecchi partiti di un sesso, l'Udcini, i liberati, c'è un calcolo elettorale sotto che conviene ancora? Ma, sinceramente, no, perché, voglio dire, se andiamo a vedere poi gli strapuntini che ottiene questo lavoro, sono pochi e poi, purtroppo, c'è una diminuzione dei partiti. Noi abbiamo ucciso i partiti in 25 anni, negli ultimi 25 anni della storia politica di questo Paese, del dibattito pubblico, sono stati orientati su questo concetto. In Italia tutti sono bravi, onesti e buoni, tranne quelli che stanno nei partiti. Cioè, questo è il concetto, quindi tutte le categorie sono tutti onesti, tutti bravi, tranne quelli che fanno politica. Ed è un concetto che va ancora avanti. Ma per arrivare alle cose concrete, per anche interloquire, non ribattere, perché io non mi sento così distante all'amico Camillo D'Alessandro, come anche lui ha detto, io ho fatto un'esperienza in cui ero al governo e sostenevo una maggioranza, il Presidente era allora Matteo Renzi, appunto, e io, a differenza di quello che ha fatto il mio partito, insieme a un gruppo di amici, ho continuato a sostenerlo. Ho continuato a sostenerlo perché io, in Matteo Renzi, vedevo una speranza. Vedevo una speranza in senso di recupero del primato della politica, nel senso di recupero del primato della politica che fa, che esegue e che realizza. E le cose che dice oggi ancora Renzi, e anche quelle che dice Calenda, devo dire, spesso mi convincono, nel senso che io su quelle cose ci sto. Quello su cui mi divide, quello che mi divide dalle considerazioni di Camillo, d'Alessandro, è la questione dei percorsi per attuare quelle cose. Io oggi vedo, nella coalizione di centrosinistra nazionale, ma ancora di più, ahimè, sono amico di Luciano D'Amico e d'ostima di lui, ma lo vedo veramente in gran difficoltà a mantenere un assetto come quello. Vedo un assemblamento del centrosinistra, certo tattico, certo giustamente come dice Camillo, noi, voglio dire, sarebbe troppo facile per Marsiglio vincere, però io non vedo in quella coalizione la possibilità di realizzare nemmeno un decimo delle cose che Renzi e Calenda dicono tutti i giorni. Cioè, che farà quella coalizione? Perché sono troppo eterogene, secondo lei? Ma perché sono più populisti dei populisti, e dico, populisti sono i 5 Stelle che stanno con loro, populisti è la sinistra estrema che sta con loro, ma il partito più populista di tutti in Italia è il PD, e questo lo dice pure Renzi, non è che lo dico solo io, perché se leggete i libri, io li leggo tutti, li ho letto, lo dice anche Renzi. Il partito più populista di questo paese è il PD, è quello abruzzese, è il partito più populista, che cosa si farà per le infrastrutture in Abruzzo? Questo chiederei a Luciano D'Amico, con quegli alleati che si ritrova, che cosa si farà per lo sviluppo dell'Abruzzo? Due contro uno, eh. No, ho finito. Però quando li abbiamo invitati, no? Per la produzione di energia, perché quando parliamo di democrazia cristiana, Gasperi, Gasperi è quello che ha portato le industrie nella Val di Sangro, ha portato lo sviluppo sulla costa terra, allora su quello ci dobbiamo confrontare. Ok, D'Alessandro, appunto, alle bordate del collega Tancredi, in qualche modo, lei sente, insomma, si sente un pochino, questo peso di questo PD populista, come lo definisce, e poi mi domando anche lì, no? E poi mi domando anche, insomma, lei ha parlato prima di realtà politica, come ci si trova, lo stesso schieramento, ad esempio, con azione, dove ad esempio lei stessa sulla stampa, attaccato in qualche modo, nei giorni scorsi, insomma, si intravede la possibilità di azione, ad esempio Giulianova, appoggi il sindaco uscente della Lega Ivan Costantini, mentre in altri territori, appunto, lo stesso in regione, appoggi il centro-sinistra. Ecco. Se a lei non dispiace, io non vorrei parlare di azione, ma vorrei parlare delle decisioni di azione, ma di quello che riguarda e interessa, penso, gli abruzzesi per la quale lei ci ha convocato, e cioè la Regione Abruzzo. Se noi non compiamo uno sforzo, esattamente ciò che serve agli abruzzesi, che cosa vogliono fare per l'Abruzzo, oppure sto alla sfida, che cosa sono in grado di fare per l'Abruzzo, noi rischiamo, come dire, di parlarci addosso e non essere per nulla attrattivi di una minima riflessione che poi è il nostro mestiere, quello di indurre in riflessione chi ci sta ad ascoltare. Però il punto è questo. Se tu metti in campo una coalizione regionalista e fai un programma sulle cose da fare, noi lo abbiamo affrontato, non c'è nessuna deriva populista, né nessuna deriva, diciamo, iper del suo contrario. L'Abruzzo ha bisogno di opere delle quali tutti sono d'accordo, l'Abruzzo ha bisogno di infrastrutture sul quale tutti sono d'accordo, l'Abruzzo, se vogliamo parlare delle tematiche più scottanti, ha un piano regionale dei rifiuti approvato che è ipercapiente rispetto alla disponibilità di ciò che produce l'Abruzzo come rifiuto, ma per esempio basterebbe cominciare ad evitare che i rifiuti da fuori regione vengano in Abruzzo per fare in modo che non si ponga nessun tipo di problema divisivo all'interno della coalizione. Che voglio dire? In Abruzzo purtroppo c'è da fare molto, ma non è che possiamo fare finta che oggi è l'anno zero. Qui ci sono stati cinque anni di governo regionale con una massa di risorse finanziarie mai vista ed è di oggi la notizia che l'Abruzzo con la revisione del PNRR fatta dal governo Meloni e mandato in Europa laddove è approvato, perdiamo 550 milioni su un plafond di investimenti che andavano tutti ai comuni. 550 milioni di euro in meno. Io e il mio caro amico Enrico siamo venuti dalla provincia di Chiede, siamo venuti qui, siamo dovuti uscire dall'autostrada, c'è una vergogna lungo l'autostrada, è colpa di Marsilio. Vorrei capire Marsilio di che cosa si occupa. Lui ha annunciato in più riprese la realizzazione della terza corsia. Era una roba demagogica, populista, ma anche un desiderio di tutti gli abruzzesi la messa lì. Non è stato neanche finanziato il progetto, non sta nel programma di nessuna struttura ministeriale. Il problema è che ogni giorno gli abruzzesi da Pescara Nord fino ad arrivare a Roseto, Giuliano e poi altri pezzi verso Nord vivono dentro un incubo. Allora questo è uno degli esempi di come misuri la distanza tra le parole e ciò che deve fare un governo e ottenere il governo regionale nella interlocuzione del governo nazionale. Guardate che qui in Abruzzo abbiamo eletto, gli abruzzesi hanno eletto la presidente del Consiglio dei Ministri. In Abruzzo c'è un parlamentare, la Meloni, eletta in Abruzzo, diventata presidente del Consiglio dei Ministri. Esattamente che cosa ha ridato all'Abruzzo in termini di risposta? L'ho detto adesso, meno 550 milioni guadagnati col governo Draghi. Una delle province più, tra l'altro, tagliate sarà la provincia di Chieti, la seconda provincia è la provincia di Teramo. Devo concludere? Qualche minuto? Prego. Qualche minuto andiamo in pausa. Sì, sì, no, voglio dire, se noi ci confrontiamo su questo allora misuriamo le ragioni per cui una coalizione eterogenea a livello nazionale si mette insieme a livello locale, regionale, perché c'è un'emergenza, esattamente l'emergenza che ci ha lasciato Marsiglio sulle infrastrutture, sulla programmazione e sulla sanità. La provincia di Teramo, noi stiamo in questo momento a Giulianova, prima faceva mobilità attiva, attraeva, ora una delle province dove per la maggiore va fuori in regione a curarsi è proprio la provincia di Teramo. Di queste cose dobbiamo parlare per capire per quale motivo alla fine si mettono insieme tanti per cercare di rispondere ad un'emergenza che è l'emergenza Abruzzo. Quelle dinamiche nazionali le lasciamo agli altri. Bene, qualche minuto andiamo in pausa pubblicitaria, riprendiamo da qui tra brevissimo. Eccoci, ben ritrovati nella nostra tribuna politica con i tre coordinatori dei partiti impegnati alle prossime regionali, con noi moderati, con l'Udc e con Italia Viva. Ripartiamo da lei di Giuseppe Antonio come coordinatore dell'Udc, appunto il suo collega prima di lasciarci in pausa pubblicitaria, il suo collega D'Alessandro parlava di emergenza infrastrutture per l'Abrutto. Effettivamente, insomma, sia lei che il collega D'Alessandro avete faticato un po' a raggiungere qui i nostri studi della provincia di Teramo per via appunto delle lungaggini, dei lavori sui viadotti autostradali. Ma ecco, se non la risolvete voi, chi la deve risolvere? Allora, ci sono momenti nella vita politica, nelle istituzioni, che porta a chi deve decidere magari anche a scelte non popolari. No. Cioè, se io ho 100 di disponibilità, devo decidere a chi destinare questi soldi e quali sono le priorità. Purtroppo si è un po' imbizzarrito il sistema di distribuzione legato un po' al mico, all'appartenenza politica, eccetera. Capire quali sono i problemi di questa regione, possono assumere decisioni che riescano in qualche modo a cambiare l'organizzazione, ma responsabilità ce l'hanno tutti quelli che hanno governato la regione. Io parlo di un problema. Per esempio, la riorganizzazione della regione si impone perché tutto quello che poi concretamente deve essere fatto, deve essere assolutamente condizionato in positivo dall'organizzazione. No. Il rapporto che il cittadino ha con l'ufficio pubblico, il rapporto che un comune ha con la regione, il rapporto che il comune sul PNRR, per esempio. Qual è il problema italiano e qual è il problema anche di questa regione? Che a volte abbiamo avuto difficoltà a portare a termine rispetto alle scadenze previste dalle regole che disciplinano l'organizzazione del PNRR perché il Paese è purtroppo una pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni che non funziona più. Primo problema, se come diceva Camilo parliamo di riformismo, il problema parte da un'organizzazione del Paese che va cambiata. Assolutamente. Ma questo deve esserci il concorso di tutti perché ci sono anche scelte che un po' pesano nelle decisioni politiche e nel consenso elettorale, ma che in prospettiva costruiscono una storia diversa del Paese. Infrastrutture. Io da secoli la terza corsia, terza corsia, perché poi la terza corsia purtroppo è condizionata da una realizzazione fatta soprattutto nella parte sud della A14 perché è un po', come dire, le colline, le valli, i ponti lunghissimi, richiedono uno sforzo economico importante. Non si fece la terza corsia perché a un certo punto nella parte sud della provincia di Chieti e dell'Abruzzo scasseggiava un risosso di 30-40 anni fa. Ora la terza corsia è importante perché l'Abruzzo, io abito in una zona dove il casello dell'autostrada parte dalla Val di Sangro, dove c'è una parte dell'industria più importante del centro-sud, quindi il traffico veicolare è incredibilmente pesante e si avvicina per certi aspetti oggi sulla Statale 16 a quello che ho vissuto uscendo da Pescara Nord. Bisogna capire come fare e quante sollecitazioni e che sollecitazioni fanno fatte perché questi lavori si concludano. Se noi parliamo di sostenibilità e trasferiamo sulla Statale 16, penso a Roseto, penso a Giulianova, penso dove non ci sono le varianti, penso al mio territorio, dopo Francavilla, noi creiamo una condizione di disagio. Poi bisogna riarticolare, come dire, le infrastrutture viarie, però il PNRR non le ha previste nei finanziamenti da dare. Questo è un paese che arretra, soprattutto nella parte del centro-sud, che arretra rispetto all'organizzazione della viabilità. Quindi lei dice non c'è stato né qua. Ma questo riguarda anche, allora, quando sono state fatte le aree industriali in tutte le vallate, la considerazione prioritaria è stata dobbiamo fare le strade di accesso dove ci sono attività industriali. Se questa si è complicata, Fondovalle Sangre, vabbè, adesso ci sono problemi, ci sono polemiche, ma sono passati secoli, secoli, sono passati decine e decine di secoli per una battuta, perché questo finanziamento si potesse concretizzare e collegare l'est e l'ovest del paese, il terreno e l'adriatico. C'è bisogno di scelte, magari se hai 100 lo togli da una parte e lo metti dall'altra. Questo è un amministrare concreto e corretto. Tancredi, appunto, a proposito di infrastrutture, beh, insomma, lei ha avuto meno difficoltà sicuramente rispetto ai colleghi a raggiungere i nostri studi, ma volevo tornare un attimo su, diciamo, l'abbordata che l'aveva fatto la collega dalle standard, no, sul fatto che insomma, in qualche modo si trova ad appoggiare una coalizione eterogenea con, insomma, diverse, delle diverse sensibilità. Voi, certo, centrodestra unito, bene, però comunque è pur vero che c'è stata una forte litigiosità all'interno della, insomma, della registrazione emersi tra la Lega e Fratelli d'Italia. Diciamo, voi siete più bravi in qualche modo a mascherare le differenze rispetto al centrosinistra? No, ma, cioè, nel sistema bipolare, tra l'altro incompiuto e immaturo come quello italiano... Cioè, voi vi presentate come uniti, però tutta questa unità... Alla coalizione, è logico che abbia una dialettica interna, a volte anche aspra, per carità, insomma, credo che il centrosinistra non possa insegnare niente da questo punto di vista al centrodestra. No, no, cioè, no, io parli... Se riprendiamo la storia di questi... No, no! Quindi, ma io credo che la litigiosità, il dibattito, quando è costruttivo, è un bene della politica, così come è un bene di tutte le organizzazioni umane. Perché, insomma, questo scandalizzarsi perché in politica non si va d'accordo, ma poi la gente, nei circoli, nei condomini, nelle famiglie, va d'accordo. Cioè, ecco, quindi, insomma, anche qua vorrei uscire da questa roba della politica che sempre... Ah, ma litigano sempre, ma perché tu che fai? Io faccio parte di un circolo tennis dove si litiga ad ogni assemblea. I condomini a cui partecipo si litiga dappertutto e poi pretendiamo che la politica, invece, se andiamo tutti d'accordo. Non andiamo d'accordo perché ci appassioniamo sulle cose e abbiamo pareri diversi. Questa è una questione, pure io faccio parte di una coalizione e ho fatto parte di una coalizione, ci sono alcuni portati di altri partiti a cui io sono proprio assolutamente diametralmente contro, proprio diametralmente opposto. Quindi, ma questo è la politica proprio, è il valore della politica, deve cercare di mettere insieme delle posizioni e di poi trovare una strada comune e il compromesso che io considero la forma più alta. Ma voi non avete tentato un'interlocuzione, diciamo, con Italia Viva? Ma io ci sono pure stato insieme a Italia Viva, figuriamoci, se non ho tentato un'interlocuzione su Teramo, alle ultime elezioni abbiamo cercato di fare delle cose insieme e poi non è andata. Ma adesso vi state rubando, lei ha scippato tutto di sabatino. Ripeto, io se dovessi sentire le cose che dice Renzi, io sposerei delle cose che dice il 95%, c'è poca roba che non mi piace di quello che dice Renzi, però poi dopo non mi ritrovo sullo stesso terreno perché, ripeto, io nella mia esperienza di contatto con i 5 Stelle ho difficoltà proprio a interloquire perché, insomma, almeno il PD è un populismo strutturato, cioè quello dei 5 Stelle è un populismo estemporaneo proprio. Però, insomma, io da quella parte là mi trovo gente che, non da oggi, la costruzione dello sviluppo e delle infrastrutture in Abruzzo l'ha ostacolata pesantemente, anche in maniera extraparlamentare, voglio dire, cioè con manifestazioni, con politiche, adesso parliamo tanto di sanità. Noi sono 25 anni che parliamo, per esempio, della ristrutturazione della rete ospedaliera. Insomma, su questo io credo che il centro-destra, bene o male, qualcosa ha cercato di fare, il centro-sinistra invece l'ho visto sempre attaccato all'ospedale di Tagliacozzo, all'ospedale di Popoli, per non parlare degli ospedali nostri, insomma, non è che voglio... Però, quindi, insomma, è chiaro che i discorsi sono molti e sono vasti, è chiaro che ci troviamo a dover fare delle coalizioni con degli altri soggetti, e questo è normale ed è sano, che in molte cose non la pensano come noi. Il punto vero è quello che purtroppo diamo l'impressione, diamo l'impressione, di fare schermaglie tattiche solo per aggiudicarci posizioni, e non è così. Insomma, invece, le discussioni e il nostro dibattito deve essere utile per capire qual è il destino della rete autostradale abruzzese, qual è il destino della gestione dei rifiuti abruzzese, io sui dati che dice Camillo, insomma, ho qualche dubbio che noi siamo autosufficienti, e poi il fatto che comunque prendiamo i rifiuti da fuori è perché qualche altro comune, vedi Roma... Lei da parlamentare è stato anche in commissione ambiente, se non sbaglio? No, io in commissione ambiente no, ci stavo per andare in galera con l'ambiente, ma io sono sempre stato in commissione bilancio, però è nota la mia posizione per l'impiantistica. Esatto, per l'impiantistica... Insomma, poi nasco da un ragionamento statistico, non è scienza né filosofia, dove ci sono gli impianti, cioè in Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana, il problema si risolve, dove non ci stanno, il problema non si risolve. Quindi, dopodiché, tutto quanto alla filosofia, ma potete dire come vi parla la raccolta differenziata, le altre scemenze di cui si parla, no? Perché poi la raccolta differenziata non significa niente, mi devi dire quanto scaricavi in discarica l'anno scorso e quando ci metti quest'anno. Che tu fai la raccolta differenziata, chi se ne frega, cioè i cittadini non hanno nessun beneficio da questa raccolta differenziata fatta così. Però sono altri discorsi che approfondiamo... Però io, proprio l'esempio di quelli che portano i rifiuti in Abruzzo, lo voglio fare un attimo, che è la città di Roma, una delle maggiori, che aveva un sindaco che era la Raggi, che ha fatto chiudere incredibilmente una discarica e non ha costruito un impianto e c'è un altro poveraccio di sindaco, Gualtieri lo conosco personalmente, l'ho conosciuto, che è andato là e ha detto, dopo pochi giorni, ma qua ci serve un termalizzatore, per carità, ma se lo mangiavano, cioè, voglio dire, a Roma, a Roma, ve lo dico, se ci andate, andateci, ci continuano a stare i rifiuti dentro le aree ecologiche, così detto, come ci stavano con la Raggi, ci stanno oggi, anzi, oggi puzzano ancora di più e sono ancora più puzzolenti. Però, così va bene, quindi questi sono i punti, io proprio su queste questioni qua, insomma, credo che si debba costruire un'alleanza. Ok, sempre di capire che, insomma, l'alleanza, appunto, l'interlocuzione, la tentata, insomma, ci dirà perché, insomma, non è andata a buon fine, ma il collega Tancredi ha citato anche un altro punto, al di là delle impiantistiche e dei rifiuti, ha parlato a un certo punto anche di sanità, ecco, la politica si divide sempre sulla sanità, sicuramente, qui in provincia di Teramo abbiamo visto, ad esempio, anche per le amministrative, il dibattito ospedale a Villa Mosca, ospedale a Piano Daccio, temi che, insomma, si protagono da anni e anni e anni, ma questi temi pagano elettoralmente, o perché, diciamo, dato che, insomma, la sanità prevede dei tempi lunghi e alla fine non si risolve comunque niente, quindi, sì, fa gioco parlarne, ma tanto, diciamo, non è qualcosa che si deve risolvere nell'immediato e quindi possiamo andare un po' più avanti. Ci sono sulla sanità due indicatori di misura che fanno parte della, sono due facce della stessa medaglia ed è una medaglia odiosissima perché riguarda la vita dei cittadini, per quanto noi possiamo scatenarci nella difesa o nell'attacco di questo, di quel governo regionale, ci sono due indicatori e in questi cinque anni bisogna stabilire con onestà se questi indicatori sono migliorati o sono peggiorati. La mobilità passiva, cioè gli abruzzesi che vanno a curarsi fuori regioni, sono aumentati o sono diminuiti? E chi sono questi abruzzesi? Coloro i quali non hanno l'offerta sanitaria disponibile, ma hanno la forza, la fortuna, la rete familiare per poter andare fuori regioni a curarsi. Poi ci sono, l'altro aspetto della medaglia, sono le liste di attese. In questi cinque anni sono diminuite o sono aumentate le liste di attese? In realtà adesso c'è un terzo dato di cui voglio parlare. Questi due dati, per quanto noi vogliamo fare la battaglia, sì, ma prima, ma dopo, eccetera, eccetera, non sono cresciuti, ma sono esplosi anche in un'altra componente. E chi ci sta ascoltando lo sa, non si tratta di tirare l'acqua al mulino, a questo, a quell'altro. Cioè quasi il 20% degli abruzzesi, due abruzzesi su dieci, rinuncia alle cure, non avendo la possibilità né di andare fuori, né di andare al privato e pagarsi. Ci sono alcuni ospedali che segnano meno 20, meno 30, meno 15% di prestazioni. Scusi, quando Tancredi dice il centrosinistra ha fatto, diciamo, più una politica sanitaria localistica, diciamo, pensate, proprio di campanile, diciamo, lei, diciamo, questo dice sostanzialmente non è cambiato, mentre se stessi stati più organici... No, vabbè, Tancredi è fin troppo esperto e ricorda la storia di questa regione per sapere, non solo che non è così, il centrosinistra ha governato in regime di commissariamento, cioè eravamo commissariati e non potete... Tancredi seguì questa vicenda dal Parlamento, perciò lo sto dicendo. Eravamo commissariati, quando sei commissariato tu non hai la possibilità di fare quello che si dice si può fare, facciamo questo, facciamo quest'altro, salviamo questo, salviamo questa... Non lo puoi fare. Il centrosinistra ha avuto la forza, e un pezzo di lavoro l'ho fatto prima nel centrosinistra a Chiodi, ha avuto la forza di uscire dal commissariamento, che ha ridonato all'Abruzzo, quindi all'attuale governo regionale, la libertà delle decisioni. Puoi fare un piano, puoi cominciare a parlare di nuovi ospedali, solo se uscivi dal commissariamento. Chi è uscito dal commissariamento, chi l'ha fatto uscire dal commissariamento, con molte scelte dolorose, è stato il centrosinistra, anche scelte non capite. Ma c'era un tavolo, e l'onorevole Tancredi lo sa, che si chiama tavolo in nome di oraggio, una cosa bruttissima... Non dovrebbe farlo, ci sei giocato la candidatura su questo? Prego? Paolucci, secondo te, si è giocato la candidatura? No, non si è giocato la candidatura su questo Paolucci. Però, visto che c'è un po' di distanza da quanto sono successi quei fatti, ecco, io invito con molta calma la politica a, come dire, strumentalizzare le vicende della sanità, perché poi ci sono i fatti oggettivi. Si è usciti, e non era facile uscire dal commissariamento, pagando un caro prezzo, secondo delle leggi che c'erano. Prima, durante il Conte 1, durante il Conte 2, durante il governo Draghi e durante il governo Meroni. Cioè, quelle leggi di sistema nessuno le ha cambiate, tutte le regioni si sono dovute adeguare. Quelle che erano in commissariamento avevano non margini di manovra. Ragione per la quale, noi dobbiamo capire, è migliorabile l'offerta sanitaria in Abruzzo per evitare le liste di attesa? Sì o no. È migliorabile la sanità in Abruzzo per evitare che vanno fuori le regioni? Sì o no. Secondo me sì. Però ci sono alcune cose che ormai nella politica dell'istinto e dell'istante, dove si chiude, dove non si ragiona più, ci sono alcune cose che passano sotto traccia. La Corte dei Conti, meno di un mese fa, ha scritto, dicendo, e nel suo giudizio, la Corte dei Conti fa un giudizio che si chiama giudizio di parifica nei confronti dell'operato della regione. Bene. Nel suo giudizio di parifica scrive la Corte dei Conti testualmente hai, Marsiglio, i fondi della sanità, dei fondi sull'edilizia sanitaria, non li hai spesi. Non li hai spesi. Risponde Marsiglio. Lo so, ma non li ho potuti spendere perché non ho la struttura adeguata per fare in modo che la risorsa arrivi a terra. Oh ragazzi, allora, noi ce la dobbiamo dire tutta. E poi consentite una battuta che non è polemica, però è l'amicizia che mi convoca e mi dà questa libertà. Quando vedo Enrico e Tancredi io penso a due giganti della politica abruzzese. Uno è Remo Gaspar, in cui Enrico è cresciuto, è nato, e l'altro è Tancredi. L'onorevole Tancredi. Questi erano due giganti, e ne c'erano molti, che non avrebbero mai consentito. Loro andavano dall'Abruzzo e andavano a comandare a Roma. Non il contrario. Qui si è accettato per la seconda volta che la classe dirigente del centro-destra non avesse uno abruzzese, uno, da candidare alla guida della regione, e per la seconda volta noi subiamo uno di Roma, altro che rifiuti, uno di Roma, che viene a governare la regione Abruzzo. Ma di che stiamo a parlare? Ma l'avrebbe consentito Tancredi e Gaspari in una cosa del genere? Rispondete onestamente. Dice se è Pantonio, è stato chiamato in causa, ma lei è meno gigante, insomma. Se quell'esserebbe mi sarei candidato io a fare il Presidente. A parte di scherzi, il problema della sanità. Centomila volte meglio, centomila. Il problema della sanità, io... A quel punto avremmo fatto l'accordo. Non riesco ad imputare a Marsiglia. In Romano ha diviso, e Marsiglia va diviso, perché se non l'accordo c'è. No, però sulla sanità e la incapacità a organizzarci a decidere. Io faccio l'esempio per il mio territorio. Se tu realizzi, e con l'articolo 20, se avessi realizzato un ospedale che in qualche modo unificava Casoli, Atessa e Lanciano, in Val di Sangro, avresti realizzato una struttura a servizio di 120.000 abitanti. Se avessimo realizzato una struttura vasto-lanciano, cioè avresti realizzato una struttura di 300, di 250.000 abitanti, realizzi una struttura che si valorizza, si qualifica, anche per la quantità di utenza che un ospedale ha e che abitua ovviamente chi fa il primario in quell'ospedale a fare più interventi chirurgici, a fare più interventi, più verifiche, più visite. Tutto questo purtroppo appartiene a una incapacità a organizzarsi, io capisco, se tolgo l'ospedale a Canicattì e lo metto in un altro posto o se tolgo due ospedali per farne uno significa la rivoluzione, però qui si parla di salute, qui parliamo di salute. Prima dicevamo l'organizzazione degli enti pubblici non può più andare avanti, va bene, che una autorizzazione arriva in ritardo. Ma lei conviene che il fatto che in Canicattà non si decide niente perché conviene alla politica, perché così rimane le parti? No, non credo che convenga la politica, convenga... Perché conviene? No, non conviene alle varie parti della politica perché decidere significa scontentare. Però io sai che cosa farei? Io, se avessi questa capacità di fare una norma, direi chiunque decida di scrivere una pagina di storia del proprio territorio, un ospedale, questo ospedale è stato realizzato da Tizzecaio. Significa se hai sbagliato, hai sbagliato e ti scrivi un strumento di responsabilità, ti intesti una responsabilità, storica di una decisione che non hai fatto. Ma questo non riguarda solo la sanità, riguarda un po' tutte le articolazioni. Io quindi non penso che sia Marsilio ad aver provocato questi problemi. È un'organizzazione di un paese che purtroppo fa acqua da tutte le parti. Senta, Giuseppe Montagno, siamo quasi in chiusura. Lei la lista la fa insieme a Tancredi o no? Se dipendesse da me la potremmo andare già a sottoscrivere. Quindi qual è il problema, Giulia? Quindi qual è il problema, Giulia? No, perché vi volevo chiedere se ci potete fare qualche anticipazione sui nomi delle liste, sui nomi dei candidati. Però lei oggi ha fatto una tribuna politica cercando di, non so, di far sottoscrivere un futuro al centro perché non abbiamo litigato tra noi tre, condividiamo molte scelte a parte le collocazioni del presidente di una parte e dell'altra. Però siete candidati da due parti separati alle regionali. Però stiamo discutendo di cose concrete e le cose concrete ti portano a stare assieme. Poi la battuta di Paolo mi ha fatto riflettere. Infatti la politica poi conclude, chiude anche con l'opposizione o la maggioranza dell'opposizione. Se litighi in un condominio te lo tieni in vita natural durante. Parte tutto. Noi presumiamo che ci debba essere un laboratorio anche di centro dalle regionali per poi passare al futuro. Anche le provinciali? Le provinciali non so se... E ci sono a breve, prima delle regionali, ad esempio qui in provincia di Teramo ci saranno le provinciali. alle provinciali, attenzione, adesso... Eh ma della pretattica propedeutica alle regionali qui ci sarà altro. Si aspetta la no... Io adesso andrò all'assemblea del Lanci domani giovedì e chiaramente... Perché è vicepresidente del Consiglio... Sì, ma a parte questo. No, capiremo se la norma che disciplinerà l'organizzazione delle province verrà fuori oppure no. in quel caso non credo che sia utile far votare diciamo il rinnovo dei consigli provinciali di secondo livello rispetto a una decisione di far tornare i cittadini a votare per le province. Questo è stato uno sbaglio di Renzi. Anche lei qualche nome ce lo può anticipare diciamo per quanto riguarda la lista cioè Gerosolimo, Marianna Scona insomma questi grandi player diciamo saranno... Le ha detto lei alcuni che più o meno non ce l'ha derichito insomma ce l'ha minuto. Qualche nome ce lo può anticipare? Dodo Di Sabatino l'ha scippato Italia Viva ma adesso ci faremo dire se Italia Viva è contenta di questo scippo lo ha ceduto volentieri oppure no. Ma Dodo è un altro che comunque ha la sua tradizione l'Udc c'è Umberto Italiani in provincia di Teramo ci sono tanti amici adesso a breve faremo una conferenza stampa e annunceremo anche qualche nome per ogni provincia. Volevo però tornare sulle cose che diceva il mio amico Camillo che io considero veramente una persona con cui si può costruire dialetticamente un qualcosa di positivo per la regione perché lo ritengo appassionato come me dei temi regionali. Lui stesso ha detto e lo ringrazio che io diedi un piccolissimo contributo dal mio seggio parlamentare della Commissione Bilancio alla uscita dal Commissario Avento a cui e lo ha riconosciuto anche lui non so se in misura più o meno 50-30% aveva già avviato un percorso l'aggiunta precedente di Gianni Chioni però io di sanità e di questi problemi qua se ando a parlare non sono mai stato uno che si è occupato di sanità non sono andato in politica per la sanità io sono uno che si occupava di industria e di bilancio però purtroppo quando sono diventato consigliere regionale è stato inevitabile già nel 2000 si parlava di ristrutturazione della rete ospedaliera si parlava del nuovo ospedale di Lanciaro si parlava allora del nuovo ospedale di Giulianova dell'articolo 20 e io ho vissuto in questi 23 anni le difficoltà perché c'è stato Pace poi c'è stato Del Turco poi c'è stato Chiodi poi c'è stato D'Alfonso però la rete ospedaliera è rimasta quella cioè adesso noi tutti qui sappiamo lo sappiamo perché ce lo siamo detti in mille convegni in mille approfondimenti che la sanità per acuti si deve concentrare e ridurre in grandi strutture strutture dotate tecnologicamente con professionalità alte mentre bisogna privilegiare invece la ramificazione sul territorio di appunto la sanità la prevenzione la sanità per il territorio questa roba qui però è difficile da fare perché non perché non conviene alla politica perché la politica non ha la forza non ha più la forza di portare avanti la chiusura anche di o il ridimensionamento o la trasformazione anche di ospedali dove ci sono reparti che non fanno interventi da anni e lo sa perché c'è la mobilità passiva perché in in alcuni reparti di alcuni ospedali periferici non ci si va più a curare nessuno perché i cittadini l'hanno capito benissimo però la politica perché non abdica su questo tema se non ha la forza di incidere abdica a chi questo è un concetto pericoloso voglio dire su questo possiamo aprire un disco abdica perché no non si concentra perché sono temi importanti di una campagna elettorale come lei probabilmente sa perché ci si è trovata ho delle opinioni invece molto più forti perché questo concetto qua non ci deve entrare la politica qua non ci deve ma chi ci deve entrare cioè quando parliamo di nomine nelle banche nella sanità beh si dice sto fatta adesso e passa no qua la politica e chi ci dovrebbe entrare le lobby chi ci no perché mi dovete dire alcune questioni di nomine fiduciari se non le fa la politica chi le fa ma se non ha la politica non ha la forza secondo me direttori generali chi la fa privati i direttori generali devono rispondere a criteri oggettivi ma poi devono essere nomine di cui la politica si assume tutte le responsabilità e poi portano avanti la politica purtroppo oggi la politica anche di fronte all'ospedale in cima alle montagne che non ha più ragione di esistere per nessuno quando si trova 50 a manifestare purtroppo d'altronde oh qui abbiamo smesso di fare le prospezioni in Adriatico con una decisione fonda che c'era qualche centinaio di persone che andava sotto i palazzi istituzionali insomma io cioè su alcune cose so che non sono manco da tanto accordo con tanti però se vedete la storia degli ultimi 20 anni in Abruzzo e in Italia c'è un arretramento della politica su tutti i temi che praticamente si segue quello che strilla di più quello che strilla la mattina di più il Parlamento spesso si riunisce e gli va dietro quindi questo è il punto di recuperare un primato che poi dopo questo primato a differenza di tutti gli altri primati cioè a differenza della magistratura a differenza dei professori universitari a differenza del grande potere economico questo quando se la politica veramente esercitasse un privato nulla toglie che dopo cinque anni questo primato e questo comportamento va a giudizio degli elettori a differenza di tutte le altre categorie che oggi comandano molto di più della politica ma non questa non vanno a giudizio degli elettori chiarissimo Camilla D'Alessandro brevissimamente se vuole aggiungere qualcosa altrimenti se ci può anticipare qualche nome sulla sua lista Dato Di Sabatino è contento di averlo dato a San Credi ma certo ma dove sta bene Dodo stiamo bene anche noi chiaramente la Marroni la riesce a trattenere oppure chiaramente no ma la politica non trattiene né caccia è una scelta autonoma e nel momento in cui Dodo ha deciso di andare lì fuori da Italia Viva e lo sa e glielo abbiamo comunicato ma non è questo il tema penso che Dodo sia d'accordo con me non interessi manco i cittadini quello che fa lui interessa più che altro quello che da questo dibattito che è emerso io credo insomma lei mi chiede la sintesi però insomma dato spazio alle componenti di centro del centro-destra mi deve dare qualche secondo per concludere cioè se da questo dibattito fosse un esempio del dibattito a campagna elettorale credo che non sarà così civile ma se dovesse essere questo non c'è una ragione non c'è un fatto grande vero ascrivibile ai cinque anni del governo Marsiglio che ci consente di fare un dibattito su questa cosa che è stata fatta l'ultima stagione di infrastrutture e anche questo Tancredi lo sa perché stava lì l'ultima stagione delle infrastrutture è stato un finanziamento di circa un miliardo e 600 milioni di euro che si chiama masterplan del governo Renzi arrivato in Abruzzo per i quali le opere sono state fatte purtroppo alcune non partite con dei colpevoli ritardi stiamo a termo se penso all'ex manicomio di termo oppure ad altri investimenti soldi veri quelli erano i soldi dello Stato italiano messi a disposizione del sud dell'Abruzzo adesso i nostri amici sono alleati con chi Lega vuole fare l'autonomia differenziata che sarà la tragedia finale sulla sanità non ci riusciamo così in un quadro di unità nazionale sul sistema sanitario figuriamoci con l'autonomia differenziata della Lega che cosa e quali saranno le conseguenze è pur vero che adesso la Lega insomma è molto ridimensionata no 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 la legge sta lì sta andando avanti in commissione secondo me sarà un baratto o baratteranno questa legge insieme alle province e noi ci ritroveremo che Calderoli ha trasformato per sempre le istituzioni democratiche in Italia con danno del centro sud questo è ditemi un motivo che c'è per cui uno abruzzese ha voglia di tornare a votare Marsiglio uno bene io vi ringrazio per il contributo di riflessione offerto sin qui vi ringrazio insomma anche per la prova dialettica di insomma questo grande centro che insomma su cui state interloquendo quindi ringrazio Enrico Di Giuseppe Antonio ringrazio Paolo Tancredi ringrazio lei Camillo D'Alessandro grazie e ringrazio voi telespettatori per averci seguito sin qui vi do appuntamento sempre con la tribuna politica sempre alle 21 sempre mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti